Ben ritornati nella quarta episodio di Cacciagli Essereg in Skyrim Con Jay & Tubers Jay & Tubers ovviamente Yaki E Tommy Ok, oggi vi faremo vedere l'arma più forte al gioco Del gioco Al gioco Ok, non riesco a fare l'introduzione buona Andiamo al punto e... vaffanculo Ed eccoci arrivati Dunque, apriamo app Si trova presso a poco... Adesso lo scopriamo, perché non posso che si scopri Ecco qua Passo dell'arco caduto Tra... Duster E... Interold In basso E qua ci dovrebbe essere... C'è cosa, c'è Dragon Si, c'è Dragon Ci dovrebbe essere anche un drago Tipo un incontro con un drago Vabbè Insomma, voi schivatelo Ok, sì E l'arma più forte del gioco è la massa del gigante Assolutamente Per me i danni che metto sono casuali, perché l'ultima volta erano 120 Vabbè, comunque sono morti Allora, non lo sa prenderla Io sto premendo A ma... Non funge Come facciamo a prenderla? Tu? Devi fare una cosa per me? D'accordo, di che si tratta? Devi prendere sta cosa qua D'accordo, ho capito Lei la impugna E avrete Lidia Barbaro Non potete prenderla Mostroso Se è sua, gli rimane sua E non occupa neanche peso, penso Perché non c'era neanche nell'inventario Adesso vi faremo vedere... Che è davvero molto forte Eccoci nella stanza della nostra vittima Da, da, da Mignaro, mago Il tipo che ci è sempre stato antipatico Farenga Mignaro, mago, farenga Tu devi fare qualcosa per me Devi spaccare la testa al tipo Attacca E ora guardiamo in diretta Il massacro Bam Bam Ok, il... Sveta, veta, veta Guardate, guardate Bam Bam Svam Vabbè, ottimo prestazione Ottimo prestazione, davvero Beh, vi assicuro che lo uccideva Suo betta, subito e solo che... Sì, sì Lo uccitava Ok, no Ah, uccidi bambino, uccidi bambino Ok, ok, ok Assetta, fuga strategica dal dietro Fuga strategica dal dietro Fuga strategica dal dietro No, 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 di volere in prigione Basta fare così Basta fare così No, 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 poi mi ruba tutto Io non posso uscire, non sono un ladro Allora... Fuga! Fuga! Eh... Assetta Ci serve nulla scattato Scatto terminato Non mi prenderete mai! Ah, ah, c'è solo un... Non mi prendete mai! Non mi prendete mai! Ok, uccidi bambino Che cazzo amiri Ti miro le palle Ho detto Uccidimi 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 Non spara, no Ok E questo... Starag E' finito E' terminato Ci vediamo al prossimo Ciao Ciao